Archiviato il nono scudetto di fila, il pensiero del club bianco-nero si chiama Champions Le Ague. Indipendentemente dall'esito della sfida contro il Lione, Paratici è già al lavoro per rinforzare, nel calciomercato estivo, la rosa della Juventus in vista della stagione 2020-21. 1. Super scambio Juventus-Barcellona. Un asse di mercato destinato a diventare bollente. Dopo l'affare Pjanic, che porterà nelle prossime settimane Arthur Melo a Torino, la Juventus torna a parlare con il Barcellona. Secondo quanto riportato da Dombalon, Paratici sarebbe pronto a farsi avanti per Ivan Rakitic. Il croato, 32 anni, è ormai fuori dai progetti futuri del Barcellona e lascerà la Catalogna in estate. L'ex Siviglia, più volte accostato ai bianconeri così come all'Inter, viene visto come il profilo ideale per il definitivo salto di qualità della mediana di Sarri. Il Barcellona sarebbe favorevole a discuterne ma ad una condizione. La condizione si chiama Rodrigo Bentancur, divenuto indispensabile per Sarri negli ultimi mesi. L'Uruguaggio, quasi dieci anni più giovane di Rakitic, è il profilo preferito da Setien per la mediana dei Blaugrana. I catalani sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 30 milioni di euro, oltre al cartellino del talento croato, per strappare Bentancur alla vecchia signora. Situazione in divenire. Juventus e Barcellona, ancora una volta, protagonisti di mercato. 2. Superscambio Juventus-Inter. Brozovic e Alex Sandro sul piatto delle trattative tra Juventus e Inter. Il club nerazzurro vorrebbe però anche una parte cash nell'operazione. Testa all'Europa per Juventus e Inter. Prima per i nerazzurri ci sarà però da affrontare l'Atalanta, dove è in palio il secondo posto in campionato, mentre i campioni d'Italia affronteranno la Roma. All'Allianz Stadium in quella che a tutti gli effetti può considerarsi come un'amichevole di fine campionato. Le due grandi rivali hanno iniziato comunque a pianificare da tempo le strategie sul mercato, chiudendo già diverse operazioni. Achimi per l'Inter, Artur e Kulusevski per la Juve con quest'ultimo strappato proprio alla concorrenza dei Meneghini. La Juventus provoca l'Inter. Scambio la pari Brozovic-Alex Sandro, Marotta e Paratici potrebbe avere degli interessi comuni e potrebbero anche pensare ad imbastire un affare direttamente sull'asse Torino-Milano. La vecchia signora è a caccia di un tassello davanti la difesa dopo la cessione al Barcellona di Pjanic e un profilo come Brozovic può ingolosire la dirigenza della Continassa. Allo stesso tempo, il sodalizio di Suning vuole rinforzare la fascia sinistra con un elemento di spessore e potrebbe guardare con attenzione ad Alex Sandro. I due giocatori non sono incedibili per entrambe le società e per la giusta offerta possono cambiare maglia. La Juventus punterebbe ad uno scambio la pari valutando il centrocampista e il terzino circa 45 milioni di euro, mentre l'Inter oltre al cartellino di Alex Sandro pretenderebbe anche una parte cash da 18-20 milioni di euro.